Per scongiurare rincari dei pedaggi su strada dei parchi restano pochi giorni. L'automatismo prevede infatti rincaro del 18% e il primo tema di confronto anche tra i candidati alle regionali. I sindaci torneranno a protestare il 31 dicembre e minacciano il corteo Lumaca. A Monta, al 18% l'automatico rincaro dei pedaggi autostradali su A24 e A25 dal 1 gennaio 2019. Da Pescara a Roma l'importo supererà dunque i 26 euro. In mancanza e in attesa di un provvedimento ministeriale che, come avvenuto nei mesi scorsi, sterilizzi il salasso per gli utenti, il tema rappresenta anche il primo terreno di confronto tra i candidati alle prossime regionali. Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle assicura che il ministro Toninelli sta lavorando a un piano per scongiurare gli aumenti che comporta inevitabilmente di mettere mano al piano economico-finanziario che attende di essere rinnovato dal 2013. Un gravissimo ritardo causato dai governi precedenti, dice. Il Movimento 5 Stelle, grazie all'asse diretto con il governo, lavorerà per tutelare i cittadini dalle logiche che hanno ridotto la nostra autostrada e la regione in queste drammatiche condizioni, conclude Marcozzi. Per il candidato presidente Fabrizio Di Stefano, l'aumento del pedaggio autostradale è un problema che si trascina dal vecchio governo Gentiloni, ma nemmeno l'attuale, nonostante i proclami di Toninelli, ha fatto nulla per risolverlo. Il governo, auspica Di Stefano, è ancora in tempo per poter intervenire nelle scadenze nazionali, così come il governo regionale dovrebbe far sentire chiara e forte la propria voce. Ancora una volta questo abruzzo dimostra di non contare nulla a Roma, conclude. Rammaricato il candidato del centrodestra, Marco Marsiglio, per la bocciatura di un suo emendamento da parte del governo, l'obiettivo, dice, è quello di trovare in questi pochi giorni una soluzione valida che fermi gli aumenti in attesa che il Cipe e il ministro Toninelli approvino il nuovo piano finanziario. Giovanni Lignini aveva inquadrato il tema già nei giorni scorsi negli studi di Reteotto, invocando decisioni ferme per risolvere strutturalmente il problema, come richiesto dal movimento dei sindaci. Se non si vuole che aumentino i pedaggi, bisogna attingere alle risorse del bilancio statale e non sui cittadini che vi transitano o, come si era tentato, afferma Lignini sulla regione Abruzzo, in virtù del fatto che l'autostrada è un'opera strategica nazionale. Intanto proprio il movimento dei sindaci prepara una mobilitazione all'Aquila il 31 dicembre prossimo, se non ci saranno fatti nuovi, minacciando di iniziare l'anno con un corteo di auto a passo di Lumaca da Tivoli a Roma.